Il freddo e la pioggia non hanno scoraggiato gli attivisti di Salerno Animal Save, che ieri mattina si sono dati appuntamento davanti al macello più grande del Vallo di Diano, ad Atena Lucana. Fermatevi 5 minuti per gli animali, è ciò che si legge sul cartello mostrato dalla referente del movimento salernitano, Chiara della Pepa, ai camionisti che dalle 7 del mattino transitavano lungo l'arteria che collega l'autostrada al mattatoio. Gli attivisti, che portano avanti il loro messaggio in maniera pacifica, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla condizione degli animali da reddito, hanno potuto regalare a Maiali e Vitelli l'affetto e la compassione che nel corso della loro breve vita non hanno potuto conoscere.